Buona giornata e benvenuti sul mio canale. Oggi vorrei parlarvi di Emilo 12 volte. Emilo 12 volte è l'oggetto di quelli che ho recensito finora che mi sta dando più soddisfazioni. L'ho collegato da 3-4 giorni al mio cancelletto elettrico del capannone e funziona benissimo. Questa mattina pioveva e tramite il telecomando ho schiacciato, si è aperto e sono entrato di corsa. L'ho trovato comodissimo in questi 3-4 giorni perché c'è un via vai nel mio capannone di almeno 10-15 persone al giorno che arrivano. Ogni volta citofonano, io devo lasciare stare il lavoro che sto facendo per andare in ufficio a schiacciare il bottone per aprirgli il cancelletto. Tramite il telecomando invece è stato veramente comodo, guardavo tramite la porta di vetro chi c'era in fondo e aprivo. Niente, oggi vedremo come si programma il telecomando perché c'è 3 modalità di funzionamento e come si collega a una serratura elettrica. Non ci vuole tantissimo sinceramente, sono 4 collegamenti ma bisogna farli bene altrimenti la serratura non scatta bene. Come l'altra volta ho deciso di farvi prima uno schizzetto con il disegno, così è più semplice da capire anche perché questi relai sono molto piccoli, i cavi vanno tutti uno a fianco all'altro e magari qualcuno si può sbagliare. Invece dal disegnino, vedete ho fatto anche le varie colorazioni, è più semplice da capire. Comunque dopo vi farò vedere anche il relay montato. Allora, c'è la parte rossa che sarebbe il cavo rosso, che vedete qua c'è anche scritto sulla scheda comunque segno più, iniziate col segno più. C'è l'entrata e poi bisogna creerà questo cavallotto che dal secondo pin va al quinto pin e poi lo faremo uscire dal terzo e si collegherà direttamente alla serratura. Vi ho fatto anche questo disegno per dirvi di non guardare assolutamente le istruzioni perché nelle istruzioni manca quest'altro cavallotto, io ci ho sbattuto la testa tantissimo. Poi per fortuna ho trovato una foto di un ragazzo su un forum che spiegava come fare, che questo cavallotto praticamente parte dall'entrata del segno più, quindi sarà rosso. Io poi dopo ve lo farò vedere marrone, così almeno vedrete bene da montato come l'ho collegato. Comunque va da qua e va inserito nel secondo pin. E poi per ultimo c'è l'altro cavo che è quello nero che è evidenziato col segno meno sopra la scheda, che è quello più semplice da fare. C'è un'entrata nel pin e poi direttamente un'uscita che va alla serratura. Molto semplice quindi. Quello nero entra ed esce subito, quello rosso entra, poi si creerà il cavallotto, poi si farà il ponticello e si farà l'uscita e si collegherà la serratura. Ora vedremo il relay montato. Allora qua abbiamo tutto lo corrente che ci serve per il funzionamento, che è un trasformatore che è attaccato alla presa della corrente, che mi trasforma la corrente da 220V a 12V. una serratura elettrica, il telecomando e questo è il relay milo. Quindi adesso vi spiego che i miei cavi che vanno al trasformatore sono neri, non sono rossi. Quindi anche questo, anche se lo vedete nero, in teoria è rosso. E il ponticello di cui vi ho parlato prima, che non avevo capito come funzionasse, che ci fosse, ecco, è questo. L'ho fatto marrone, così almeno non si mischia insieme ai rossi che ci sono dall'altra parte. Almeno potete capirmi meglio. Allora, questo è quello nero, che sarebbe il meno, che vedete, entra nel pin in alto. E poi ci sarà un cavallotto, che è quello che vedete, questo che esce, che va direttamente alla serratura. Invece il cavo più, che è rosso, entra nel secondo pin, che è questo qua in basso, vedete. Ed esce qui, nel terzo pin, e va direttamente alla serratura. Poi bisognerà creare un cavallotto, che è questo, vedete. Che va dal secondo pin al quinto pin. E poi ci sarà quel cavallottino lì, che ho fatto marrone, che è quello che vi dicevo, che non è segnato sulle istruzioni. Che va dal segno più, e si collega al secondo pin. Vedete? Siamo pronti per testare la serratura. In questo caso, visto che noi dovremmo solo dare l'impulso, abbiamo programmato il telecomando usando solo un bottone, che sarebbe il bottone B. Vedete? Schiaccio. Perfetto. Avete visto che la serratura funziona benissimo. Ora vi farò vedere come si programma il telecomando. Per programmare il telecomando, bisognerà schiacciare questo bottoncino che c'è sul relè. Vedete? Bisogna tenerlo premuto, fino a quando la luce verde non lampeggia. Quando lampeggia la prima volta, vuol dire che la prima modalità, dobbiamo lasciare il bottone, schiacciare il bottone del telecomando e rischiacciare questo bottone. Per la seconda modalità, invece, bisogna premere il bottone, tenerlo premuto fino a quando la luce verde non farà due accensioni, lasciarlo, premere il bottone del telecomando e ripremere questo bottone. Per la terza programmazione, che è quella che ci serve a noi, dovremmo tenere premuto il bottone, arrivare alla terza volta che si accende la luce, si deve accendere per tre volte con la verde, lasciamo, schiacciamo il bottone e poi dopo rischiacciamo questo. Ora vi farò vedere, ho messo il telecomando con la programmazione cancellata, così almeno adesso potremmo riconfigurarlo. Teniamo premuto, prima luce verde, seconda luce verde, terza luce verde, lasciamo, premiamo il telecomando e rischiacciamo il bottone fin quando non si accende la luce rossa. Perfetto, adesso il telecomando è stato impostato nella frequenza che vogliamo noi.